Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimatingCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi, mi sono tornati sul canale di Gran E adesso siamo tornati con un nuovo video di prodotto di Division 1 Ovviamente dobbiamo trovare sempre squadre buggate Perché se no non siamo contenti Ma da quando è andato al Manchester? Ma mo Dove ci hanno aiuto l'anno scorso? Non so che Comunque Non so semplicemente non giocare Noi come abbiamo detto nello scorso video Ci basterebbe una vittoria per andare subito in Division 6 E poi ci sarebbe invece un pareggio per sperare nella prossima partita E se perdiamo dobbiamo per forza vincere la prossima Comunque come va questa partita La prossima ce sta Esatto Non è detto No perché se vinciamo non ce sta Ah si è vero No non lo puoi vincerti Certo Sto 17 il titolo Gervaso Ma hai punto Gervaso Musa Dalla Musa Ma non è Musa quello Quello è Musa Ah no questo è Dumbia Eh se sono i vertiti di poli Dumbia a golle Mamma mia a golle a golle E lo sento mio a bisapuno che ci siamo Ma a me è un bambino incredibile che golle che golle Non dite che è ridato il video Musa guarda che è talito Ah se è talito Se è proprio un bambino arrivo Eh guarda con questa cordana è stato un bambino Dai 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 non so una lunga di fa Oddio Subito dietro subito Perché a lui? Perché non fanno i passaggi e giusto? Guarda 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 eh Mamma mia a un culo Gli guarda Rapano bomba Oh Questo è arrivato come Per rinoceronte No 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 affatto No Se l'è messa nel bambino Ma che cazzo ha fatto? No è scandaloso Vabbè No 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 Non c'è posso credere C'è Come cazzo ha fatto a fasse con il gol Che cos'è? Ma è cascavato da solo C'è io che coglioni Parire e si qua coglioni Che coglioni Ma sei infasso Ok Oh mamma mia che ti parli ma perché ti ho fatto la porta portiere Oddio che coglioni Che cosa avevo in trenta legge Diego non fessi sette parate ma a contare tu soltanto sul gol Oh Oh Prego Eh ti prego il cazzo guarda che stop di merda Porca troia No C'è io che ci manleva C'è no non ci voglio credere Magari segna pure no Ma vaffanculo Ma che cazzo sta a fare il portiere Ma che sta a fare il portiere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ma che cazzo Ma che vuol dire Ma che torpe Voglio vederlo Manco quello Caproia Che palle questo colimpalli No Abbiamo fatto No 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 Mamma mia però male Che cazzo Terza categoria serve ogni tanto Fallo Tira Porca troia Infatti è che tu me tu tira E intanto te se mi sto davanti a me No no fa tutto a solo Io non l'ho toccato È lato al portiere Non lo so perché allora Però se mi sto davanti a me qualcosa Io l'ho preso quell'altro quindi Perché non me fa non me tua fa la skill Portacci tua Non lo so Non lo so Oh dal Forche Ma vaffanculo Tre volte ho detto di dalla Tre volte la vai E tre volte ho detto Ma vaffanculo Ho già è insultato Che è? Che è? No 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 C'è ragazza di sedendo Come stiamo perdendo noi No 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 Noi come stiamo perdendo? Con portiere che si è buttata da solo e con portiere che è uscita a vuoto cazzo ci stavamo pronti a tutti i modi non è possibile 68 c'è tempo no 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 vabbè una parte da posto rubata non è nel senso che rubata c'è rubata proprio per le occasioni no ah subito bravo che cazzo no porca va bene ragazzi partita cominciata bene poi persa per colpa di quel coglione che vedete lì in fondo porca troia e quindi niente cominciamo già a fare saluti tanto tanto è così e finisce qui 4 a 1 non ci resta che fare la partita della vita la prossima sarà la partita della vita proprio e quindi domani vi parliamo tutti qui incollati perché ragazzi ci giochiamo la promozione dei trapani è tutto bella grazie a tutti ciao ciao .